Mi siete mai fatto un tattolo personale su quanti amici potete contare nel momento del bisogno? E siete proprio sicuri che loro non vi tradirebbero mai? La mia agenzia si chiama Tramite Amicizia. Ho deciso che vendo tutto perché sono troppo depresso. Si sente solo. Noi perdiamo il lavoro. E come noi chissà quando altre famiglie. Tu devi salvare il lavoro e lo devi fare tramite amicizia. Ma non è così che si fa ogni cosa in questo paese. Sono più di un amico. Cioè vedo solo facciano come i tipi. Si, si. Una vera amicizia non ha mai secondo i figli. Stiamo mandando un civile. Dove sei? Sono napoletano. È quasi francese. Ciao. 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 Att Пер Match. Ciao. Ciao.